ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio spanchettare con voi un regalo molto importante che costituisce un upgrade per questo canale quindi è un regalo per me ma anche un regalo per tutti voi ed è un regalo che arriva direttamente da un elvetto quindi un ragazzo di voi che mi segue da un sacco di tempo e al quale voglio anche molto bene e prima di mostrarvi questo regalo quindi di aprirlo con voi naturalmente vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltare questo video e rilassarvi al meglio e naturalmente di distendervi in un posto comodo dove non sarete disturbati da nessuno in più prima di addormentarti se vuoi supportarmi lascia un mi piace a questo video e se non lo hai ancora fatto iscriviti anche al canale naturalmente cliccando sulla campanina per non perdere i prossimi video rilassanti ti ricordo anche che ho aperto un secondo canale dove presto caricherò un sacco di contenuti nuovi ti lascio il link giù nell'info box se ti fa piacere vai a iscriverti anche di là per essere tra i primi detto questo iniziamo eccomi allora il regalo in questione è contenuto in questo sacchetto super triggeroso con il quale farò un po' di suoni e arriva direttamente da Marco Lazze cioè Marco Lazetera grazie 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 di cuore Marco per questo bellissimo regalo vi ricordo che nell'info box ho aggiunto il link alla mia lista dei desideri di Amazon nella quale troverete tante cose che possono essere utili a me o al canale e anche degli oggettini secondo me carini per completare il set che vedete alle mie spalle che finora è ancora un po' sboglio se volete contribuire date un'occhiata sono anche super contenta perché nei giorni scorsi chi mi segue su Instagram ha potuto vedere la mia emozione in diretta nello scartare altri regalini che ho ricevuto proprio da parte vostra ce n'è uno che mi ha fatto Dani che è veramente bellissimo ed è un set di luci professionale che devo in realtà ancora utilizzare perché ho bisogno delle batterie ma le acquisterò presto e wow ma vediamo questo regalo che costituisce il centro di questo video ti leggo il bellettino allora questo è un regalo di Natale per ringraziarti di quello che fai e per essere la persona meravigliosa che sei grazie mille e forza veri da Marco è dolcissimo io adoro leggere i bigliettini dei pacchetti regalo e adesso andiamo a sciogliere il fiocco e adesso andiamo a sciogliere il fiocco oale l'avete riconosciuto? il mitico Tascam TR40X quindi il microfono Tascam nella sua versione Pro e sono super emozionata, non vedo l'ora di fare tantissimi video con questo a proposito fatemi sapere se ce n'è qualcuno che vi piacerebbe vedere in particolare per collaudarlo vi leggo un po' qui dietro le scritte in audio bolla on the road perfetto, non ti faccio vedere il podcast, non ti raccoglie, non ti raccoglie, non ti raccoglie ancora, non ti raccoglie, non ti raccoglie, non ti raccoglie, non ti raccoglie in pratica qui suddivide l'utilizzo tra on the road, quindi all'esterno, comunque non in studio e l'utilizzo in studio adesso apriamo la scatola cercando di fare meno rumore possibile all'interno troviamo il manuale delle istruzioni intanto i vicini stanno facendo una festa probabilmente spero non sentiate troppo forte le loro voci in sottofondo e qui c'è un, non so cosa, c'è scritto tilt foot un piedino, un qualcosa per tenere il microfono forse lo scoprirò come potete vedere qui dietro sono elettate tutte le specifiche tecniche che dovrò studiare alla perfezione anzi se qualcuno di voi può aiutarmi perché magari già uso questo microfono mi farebbe un enorme favore se mi spiegasse l'utilizzo migliore che posso farne e insomma le impostazioni migliori ecco, qui nella figura ci sono i due modi in cui possono essere orientati i microfonini e io preferisco questo perché è aumentati tantissimo l'effetto stereo tolto il cartone nella confezione ci sono delle pile e ovviamente l'oltre eccolo guardate che bello io non vedo l'ora di fare una prova con la mia voce con magari qualche trigger più adatto a questo microfono che è molto diverso dal zoom soprattutto quando i due microfonini qui si orientano nel modo in cui vi ho fatto vedere spingo qualche pulso e insomma sono proprio proprio contenta grazie ancora Marco per tutto e grazie a tutti voi che in questi giorni mi avete fatto dei regali se non mi seguite ancora su Instagram vi consiglio di andare a seguirmi anche lì perché vi gusterete le mie reazioni in diretta alle varie cose che succedono e insomma riesco a comunicare con voi molto più spesso scrivetemi nei commenti oltre al video che vi piacerebbe vedere per il collaudo del microfono anche quale regalo di Natale avete inserito nella vostra lista dei desideri e vi ricordo che appunto oltre alla mia lista dei desideri di Amazon in descrizione trovate anche il link per acquistare sempre su Amazon la mia agenda ASMR di cui vi lascio una foto qui il diario ASMR interattivo con il quale potrete sbloccare un sacco di contenuti interessanti ASMR ogni mese forse può essere anche un regalo carino di Natale andate a iscrivervi anche al mio secondo canale nel quale presto pubblicherò un sacco di contenuti trovate sempre il link giù in info box come vi ho detto e basta se vi va noi ci vediamo come al solito nel prossimo video buonanotte e baci di Fatosi ciao 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 ciao